Nella venticinquesima giornata il Pineto vince per 2-1 contro l'Atletico Porto San Telpidio in vantaggio i Biancazzurri nella prima frazione con una doppia età di Minnozzi nella ripresa a Spagna accorce le distanze ma non basta per i marchigiani Calcio d'inizio per gli ospiti, inizio di gara con uno sprint dei locali Minincleri tiro cross che per poco non inganna Cavalieri e non trova la deviazione vincente di Mbubà al diciassettesimo però si sblocca il match su un cross di Della Quercia, Torre di Baldinini e Minnozzi sigla comodamente la rete del 1-0 lo stesso numero 17 un giro di lancette dopo raddoppia con una bordata che batte Cavalieri e allunga immediatamente per i suoi il Pineto sulle ali dell'entusiasmo prova a chiudere il match progressione di Mbubà, il belga però non riesce a trovare il guizzo vincente nei 16 metri marchigiani nella ripresa la truppa di Palladini riesce subito ad accorciare le distanze Pierdomenico Pennella per Spagna, la torre marchigiana accorcia così il match e riapre la contesa i ragazzi di Mister Pomante non ci stanno Minnozzi prova a battere per la terza volta a Cavalieri che risponde presente la partita è noiosa e non succede più nulla il Pineto vince 2-1 contro l'atletico Porto Sant'Elpidio conquistando il secondo successo di fila per i marchigiani una buona prova ma 0 sono i punti racimonati dalla truppa del neo subentrato Palladini in classifica sì sicuramente sicuramente perché io l'ho detto anche in settimana avevo paura di questa partita perché non è facile affrontare una squadra che non la perdere noi siamo stati bravi a impattarle subito la gara perché siamo andati subito siamo andati subito in due gol di scarto è normale sono un po' tra virgolette parlo tra virgolette dispiaciuto per il secondo tempo perché ci siamo un po' accontentati e abbiamo rischiato di fare tra virgolette il danno perché quando prendi il 2-1 poi vai a rischiare di pareggiare la partita che sinceramente non lo meritavi dobbiamo essere più brevi a non accontentarci una volta raggiunto il 2-0 dobbiamo chiudere subito la partita perché queste sono partite strane vorrei ricordare anche perché Porto Sant'Elpidio è una squadra che nelle ultime partite le partite le è sempre giocate ha pareggiato 0-0 a Castelnuovo ha perso 2-1 con il Matese e ha perso 2-1 con l'Alba Longa quindi è una squadra che le partite non regala nulla è una squadra che come ho detto prima le partite se le gioca fino alla fine e noi siamo stati bravi subito a portare la partita alla parte nostra però c'è il rammarico che la partita la devi chiudere non dovevamo soffrire così tanto nel secondo tempo l'obiettivo è quello di costruire qualcosa di costruire qualcosa con questi giovani poi logicamente dobbiamo fare come abbiamo fatto il secondo tempo cercare di mettere in difficoltà gli avversari che sono sicuramente sulla carta più forti di noi ma noi non dobbiamo regalare niente noi purtroppo abbiamo regalato due gol che hanno condizionato una partita contro una squadra forte che ha delle qualità che sappiamo tutti che ogni anno investe perché vuole arrivare tra le prime e quindi sapevamo tutto questo regalare due gol così mi dà fastidio perché poi nel secondo tempo hai cercato, hai provato in tutti i modi anche sbagliando a fare qualcosa di importante